ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi giriamo la stanza la rivoltiamo come un calzino perché se vi ricordate bene prima la mia postazione di lavoro stava proprio sotto le travi di legno e il più delle volte picchiavo la testa quindi ho deciso di girare tutto anche perché ho preso un pc nuovo diverso per lavorare ed è anche per questo che sono mancata e quindi ho deciso di spostare il tavolo dall'altra parte della stanza questo perché mi è arrivata una nuova scrivania quindi ho deciso di fare proprio due postazioni di lavoro una per l'art and craft e l'altra per editare per lavorare e per streamare novità di questo video mi trovate anche sul canale viola sul social viola vi lascio in descrizione i link del caso se volete andarmi a seguire anche la e con l'aiuto della mia mamma e ovviamente anche di sciva abbiamo spostato prima il tavolo per spostare poi anche il divano perché nel bel mezzo del cammin di nostra vita la vostra gloria ha deciso anche di spostare tutto tutta la stanza ho deciso di mettere il divano davanti alla tv perché è molto più comodo e più pratico infatti sto utilizzando di più quel lato della stanza da quando c'è il divano perché non c'è più il letto è un'altra breve storia triste che vi racconterò in un altro video dopo varie pulizie abbiamo iniziato a spostare il tavolo prima contro l'angolo della parete poi dopo non mi piaceva quindi ho deciso di spostare tutto l'artecraft in quell'angolo e mettere il tavolo direttamente sotto la finestra perché mi piace che mentre lavoro guardo fuori perché ci sono delle velux magnifiche per il cielo e mi ispirano durante i miei lavoretti ci ho messo giorni a decidere come sistemare il tutto però finalmente sono felice mi piace questa questa postazione infatti si è nata anche da questa canzone sì mi piace questo è il pc nuovo spero che piaccia anche voi io sono passata da apple a windows ed è stato un trauma questa era la scrivania prima prima di ricevere la nuova scrivania che ragazzi devo aprire qua una mega parentesi questa scrivania è la vita questa infatti è la scrivania regolabile comar flexi spot only one e w8 è una scrivania bellissima si alza e si abbassa a vostro piacimento anche delle entrate a essere comodissime però io purtroppo non sono buona a montarle poi era super pesante da montare anche se è molto facile infatti mi sono fatta aiutare da mio fratello con la supervisione di mia nipote che non vedete da anni sul canale guardate quanto è cresciuta vi lascio questo momento di montaggio perché è molto molto simpatico mio fratello poi è proprio stupidotto come me se vuoi fare le cose in piedi tu alzi la scrivania e fai le cose si è sfocato e fai le cose in piedi capisci c'è gente che mette il tapirulan sotto mentre fa lo smart working questa è la sbarra per fare gli allenamenti picchialo isa picchialo e dopo aver aggiunto l'ultimo pezzo e montato il tutto seguendo le istruzioni passo passo giriamo la scrivania io e mio fratello perché come vedete ci vuole per forza l'aiuto di qualcuno perché davvero molto pesante anche se molto semplice da montare e la avviciniamo all'altra per sostituirla e spostare il computer sulla nuova scrivania qui la postazione era ancora di qualche giorno fa prima che in giro si può inviare tutta la stanza no no uno è per memorizzare se tieni premuto i tasti non cliccarli ancora perché li memorizzerò poi le altezze come vedete ci sono dei numerini per selezionare le vostre altezze preferite cosa che poi farò un giorno dopo e qua una prova generale poi mi sono arrivate anche queste fantastiche tastiere perché per completare tutta la mia postazione stavo spezzando tutti i pezzi e non potevo non scegliere delle tastiere super colorate stra felice di questa giornata tra l'altro in questa giornata mi è anche caduta la fotocamera e si è spaccata però funziona ancora quindi pregate che continui a funzionare altrimenti veramente scende sempre una in casa mia queste tastiere ragazzi le ho pensate per mesi sono della wumier sono veramente bellissime oltre ad avere un click super confortante e molto molto chill perché anche il rumore della tastiera fa vi lascio al momento smr infatti perché veramente meritano tantissimo ne ho scelte due per alternarle perché una ai tastini con le freccettine l'altra no infatti questa qua più viola è molto più compatta ma anche lei è veramente tanto carina in più ci sono i tasti intercambiabili penso che lascerò questi qua lilla perché ci sono anche viola scuro quelli vedrete ma veramente bellissime anche di queste due tastiere vi lascio nell'info box i link se nel caso vogliate acquistarle e questi qua sono tutti gli arnesi per cambiare i tastini qua stavo facendo una prova ma ovviamente non non li staccherò perché ho un po' paura anche da staccarli anche se vedo un sacco di video sul web di come intercambiare i tasti guardate la postazione già come è cambiata come è bella la mattina dopo ero stra felice di tutta questa questa postazione assemblata finalmente questi gelatini ringrazio la ragazza che mi ha fatto questo quadretto bellissimo vi lascio anche il suo contatto nell'info box e guardate la scrivania come comoda è super semplice abbassare alzare la scrivania da questi due tastini e finalmente la stanza è finita questa è la zona cinema come la chiamo io molto meglio col divano qui dove metto tutte le luci e invece qui è rimasto abbastanza invariato la postazione art and craft invece anche qua mi piace tantissimo perché questo tavolo è perfetto per questo angolo dove faccio le mie creazioni mentre la zona di lavoro rimane molto molto più pulita e funzionale tra l'altro questa scrivania ha all'interno un cassettino cosa che l'altra non aveva ed è molto comoda anche questa perché riesco a mettere dentro tutte le cose che mi servono per lavorare come la micro sd tutti i telecomandini del caso il mio ipad e mi trovo molto molto meglio perché ho tutto veramente a portata di mano erano già mesi che dovevo collaborare con flexi spot e ricevere questa scrivania però avevo sospeso la collaborazione per il cambio casa adesso invece è perfetta perché è arrivato il momento appunto col nuovo computer di cambiare postazioni infatti mi sono ispirata agli account instagram che seguo che hanno sempre questi super mega computer bellissimi e colorati ringrazio anche mio fratello che mi ha fatto questo mega regalo veramente e guardate la tastiera quanto è carina si illumina a ogni click ci sono varie impostazioni per settare i colori e le luci in base al click che fate e questa sono io che metto le mie profumazioni super chill nel mio profumo ambiente e niente fatemi sapere che cosa ne pensate della mia nuova postazione delle nuove cosine che ho ricevuto vi ricordo che trovate tutto nell'info box e vi ricordo che mi trovate anche sul canale viola mi raccomando perché faremo un sacco di dirette veramente e questa è la stanza finita io spero tanto che vi piaccia vi lascio ancora qualche clip per farvi vedere insomma tutto tutta la stanza finita sono veramente molto 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 contenta in più mi trovo molto meglio anche per quanto riguarda l'organizzazione e il lavoro se devo sistemare quei fili che non mi piacciono prima o poi lo farò e qua vi faccio vedere anche che potete collegare per caricare il telefono che anche qua apro una parentesi è super veloce la carica del telefono con flexi spot e niente io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video sperando che questo vi sia piaciuto un bacino ciao 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 Grazie a tutti